Fari i conti con l'ambiente, International Conference 20 anni da Rio 92, siamo in compagnia di Francisco Serrano da Granada, a cui chiediamo quali saranno i temi del tuo intervento qui nell'ambito della conferenza. Grazie, innanzitutto ringraziare il professor Montessori per il suo invito, già il quarto anno che sono qua a Ravenna, invece io vado a parlare su un po' la presentazione di un libro di gestione ambientale dell'ambiente, gestione sostenibile dell'ambiente, in quale abbiamo lavorato un team formato di professori qui dell'Italia, dell'Università di Bologna, professori della Spagna e con temi così relazionati con quello che lavoriamo qui a Ravenna 2012, il tema della sostenibilità, rifiuti, energia, valutazione di impatto, strumenti per gestire l'ambiente, un po' di tutto e faremo una relazione, un piccolo intervento, 15 minuti insieme a Paola Rubi e su questo libro la tematica è come possiamo aiutare un po' a arrivare alla sostenibilità. Dopo, domani mattina, venerdì, sono invitato a fare una piccola lezione sulla valutazione di impatto ambientale, sull'impatto ambientale dei progetti, è un'attività molto importante soprattutto per i nostri gestori che aiutano un po', possono servire per tomare le decisioni sull'ambiente, su quali progetti sono interessanti da fare, quali non sono, quali hanno un grande impatto sull'ambiente e quali no e faremo un altro intervento, una relazione in 20 minuti che aspetto sia interessante, però soprattutto sempre la tematica è la stessa, sviluppo sostenibile, ridurre l'impatto ambientale e un po' aiutare a collaborare per fare un pianeta un po' più meglio. Fare i conti con l'ambiente, grazie.